Grazie Francesco, grazie al Presidente Todini, al Presidente della Regione, Ministro delle Infrastrutture, Deputati, Prefetto, Magnifico Rettore, tutte le autorità. L'avevamo promesso di stare a Cosenza e ci siamo in un giorno importante, in un giorno in cui abbiamo dato un segnale, Francesco, di speranza, ma anche un segnale di serietà sulla Salerno-Reggio Calabria. L'ho detto durante l'inaugurazione, lo ridico qua, Salerno-Reggio Calabria, lo dico in conferenza stampa nel secondo anniversario del Governo, finiremo la Salerno-Reggio Calabria e scatta la risata complessiva dei giornalisti della stampa estera, a me questa cosa mi ha fatto male, perché c'è un problema di serietà del Paese, noi non possiamo pensare che ironizzino su di noi, che utilizzino i nostri errori, perché sicuramente sulla Salerno-Reggio Calabria in passato di errori ne sono stati fatti e tanti, ma utilizzino gli errori del nostro passato per rinfacciarci dei luoghi comuni. Un luogo comune è quello che le opere pubbliche da noi non funzionano e noi dimostreremo con un lavoro costante e quotidiano che non è così. Tra i luoghi comuni c'è quello di immaginare il mezzogiorno come una terra che non ha prospettive, non ha chance per il futuro. Non è stato così in passato, in passato il mezzogiorno era la fucina, era il laboratorio, era il luogo dell'innovazione. Nel momento in cui si parte con l'unità d'Italia il mezzogiorno aveva alcune tra le esperienze più innovative d'Europa, non soltanto della penisola. E, questo è molto importante, la ricchezza culturale che questa terra può esprimere è straordinaria. L'abbiamo visto passeggiando tra le start-up che sono incoraggiate dall'azione dell'Università della Calabria, ma anche dall'investimento naturalmente che fa Poste. L'abbiamo visto parlando con 54 ragazze che fanno un master e alcuni dei quali una quindicina proprio con Poste, Poste li ospita tutti, ma alcuni sono con Poste, altri con NTT, altri con ADS di Pomezia, e altri con altre aziende ancora, che fanno cosa? Che costruiscono un pezzettino di futuro, che costruiscono occasioni concrete per immaginare un domani. Allora, nella lotta contro i pregiudizi, nella lotta contro i luoghi comuni, c'è anche quella che dice, ma il mio futuro è alle Poste. 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, sistemarsi alle Poste era l'obiettivo, direi checco zaloniano, di un'esistenza. Cosa fai? Entro alle Poste sono a posto. Le Poste hanno cambiato pelle, oggi sono una realtà che sta sul mercato, che sta in borsa, sono una realtà che punta ad essere all'avanguardia, non nel mezzogiorno, non in Italia, ma a livello europeo e mondiale, sui temi dell'innovazione, della tecnologia, della digitalizzazione, della cyber security. In altri termini usciamo dal modo tipicamente nostro di raccontare con tutte le parole in inglese. Che vuol dire? Vuol dire che con questi aggeggi qua, e non soltanto con questi, facciamo già adesso cose che erano inimmaginabili dieci anni fa o vent'anni fa. Chi di voi parla con un figlio adolescente e prova a dirgli sai che quando ero piccolo io non c'era il telefonino? Non c'era il telefonino. E come facevi? non c'era il telefonino. Ma vent'anni fa i telefonini facevano soltanto il telefono. Dieci anni fa Nokia e Motorola si divedevano il mercato, dieci anni fa è nato l'iPhone. I leader erano Nokia e Motorola, tutte e due sono aziende che hanno perso l'attimo fuggente, hanno perso il momento. Sono aziende che fanno altro. E allora la vera scommessa oggi è capire che cosa accadrà smettere di vivere di rimpianti, di lamentele, di rassegnazione e immaginare noi come la immaginiamo l'Italia dei prossimi vent'anni? Dove saremo? Può essere il mezzogiorno, può essere la Calabria, può essere Cosenza un pezzo di questa sfida? Noi siamo qui per dire sì. E siamo qui per dire che lo possiamo fare grazie a un grande player italiano ed europeo, quale poste? Una delle realtà più all'avanguardia nel mondo, una realtà che deve innovare, sperimentare, essere curiosa, che ha profili di grande interesse sotto molti aspetti, aspetto finanziario, ma anche sotto l'aspetto tecnologico e che può aiutare il percorso italiano dei prossimi anni. Qualche giorno fa il ministro Madia ha presentato una cosa che si chiama SPID, sono gli acronimi della pubblica amministrazione, sono incentivi, sostanzialmente il PIN unico, o meglio è un pezzo del ragionamento che porta il PIN unico. Tu hai un PIN, così come hai il PIN per entrare dentro il telefonino, hai un PIN per interfacciarti con la pubblica amministrazione. E questo PIN, questo codice per entrare dentro la pubblica amministrazione, deve costringere la pubblica amministrazione ad avere un linguaggio comune quando parla con i cittadini, ad avere un'interfaccia comune. Con una battuta possiamo dire che la pubblica amministrazione deve cambiare faccia, ma deve anche cambiare interfaccia, deve cambiare il modo con il quale si relaziona con i cittadini. Posto è protagonista di questo ragionamento. Investiremo nei prossimi mesi 150 milioni sulla cyber security, sono previsti nella legge di stabilità del 2016. Questo ci permetterà di valorizzare la polizia postale, ci permetterà di valorizzare l'intelligence, ci permetterà di valorizzare i soggetti pubblici e privati che investono in questo settore. Ma tutto questo, ho finito, sarà possibile soltanto se noi abitueremo, formeremo, educheremo i nostri ragazzi più giovani a dire che c'è bisogno di loro. C'è un racconto dominante in Italia, si parla di mezzogiorno e si fa l'elenco delle cose che non vanno. Ce ne sono tante. Anzi, permettetemi da qui di fare i complimenti al procuratore Gratteri che proprio in queste ore ha annunciato un'importante operazione contro l'andrangheta come tanti suoi colleghi in prima linea per combattere contro la criminalità organizzata. Benissimo. Quindi c'è bisogno di combattere senza paura, senza pietà, avanti fino con grandissima decisione e determinazione contro tutte le forme di illegalità. Ci sono problemi di ritardi della pubblica amministrazione, ci stiamo lavorando, vediamo le cose che non funzionano, ma con Mario sappiamo e ne siamo ben orgogliosi che la Calabria ha tutte le caratteristiche per essere all'avanguardia, per esempio, sulla banda larga. E mi viene detto, eh beh sì, però c'è la banda larga e non c'è il lavoro. Bisogna far passare il messaggio che la banda larga diventerà sempre di più la condizione perché ci possa essere un lavoro diverso da quello di prima, innovativo. C'è in questo caso una difficoltà di attrarre grandi investimenti di aziende internazionali. Stiamo cercando di farlo, penso al piano dei porti, penso alle iniziative sulle infrastrutture, ma ci sono soggetti player come Post, qui il Presidente, qui l'amministratore delegato, che decidono di investire su questo territorio. E allora ho finito, siamo qui per dare un messaggio che non è un messaggio di speranza, è un messaggio alternativo al racconto dominante. Ho fatto una chiacchiera con i 54 ragazzi, ci siamo messi un po' a discutere, batti e ribatti, botte e risposta, e ci siamo resi conto che negli ultimi anni il messaggio davvero chiave e costante era sempre le cose non vanno, non vanno bene, va tutto male, l'Italia è finita, non è così. Nel mondo che verrà, il mondo di internet delle cose, il mondo della manifattura 4.0, il mondo dell'innovazione, il mondo del futuro, nel mondo che verrà e che sarà difficile oggi prevedere, perché nessuno di noi avrebbe mai immaginato che Nokia e Motorola in dieci anni sarebbero fallite o comunque che avrebbero avuto delle difficoltà, non diciamo fallite. Nessuno di noi immaginava nel 2006 che Nokia e Motorola, che erano leader di mercato, avrebbero avuto delle difficoltà. E' arrivato uno, si è inventato l'iPhone e poi gli smartphone degli altri e ha cambiato tutto. Bene, noi non sappiamo cosa accadrà da qui a dieci anni, ma sappiamo che se investiamo sull'intelligenza, sull'innovazione, sulla qualità delle donne e degli uomini che lavorano, l'Italia avrà un ruolo. È questo il nostro compito. E allora chiudendo questa breve missione in Calabria e ritornando con il ministro del Rio e con tutto il team a Roma, quali sono Francesco le cose che ci portiamo dietro? Uno, c'è bisogno che poste sempre di più grande realtà imprenditoriale europea, possa essere non soltanto una realtà innovativa, ma anche una chioccia per giovani che hanno voglia di sperimentare, di innovare. Se qualcuno fino a 30 anni fa vedeva nelle poste il luogo della speranza, perché forse mi sistemo, oggi i ragazzi di oggi devono vedere nelle poste il luogo della speranza perché forse mi metto in gioco, perché forse invento qualcosa, perché forse divento uno di quelli che con una buona idea do una mano. Due, c'è bisogno di fare un lavoro costante sulle opere ferme da troppo tempo, lo faremo, non ci daremo tregua, ma contemporaneamente c'è bisogno anche di poter immaginare il futuro che verrà. Io non voglio passare i prossimi mesi a discutere solo della salenda Reggio Calabria, voglio finirla per poi andare in faccia da quei giornalisti che ridevano di noi e dire scusate, prego, potete ridere di me, potete ridere di Caio, potete ridere di noi, ma non potete ridere dell'Italia. E da questo punto di vista quello che per me è fondamentale è che l'Italia deve essere più avanti, deve dimostrarsi capace di immaginare storie e sogni nuovi e credo che questo sia un po' il compito con il quale torniamo. Il terzo e ultimo punto naturalmente è che mentre a Roma la politica passa il tempo a discutere dalla mattina alla sera delle solite cose, delle solite polemiche, delle solite chiacchiere, noi stiamo dalla parte dell'Italia che ci prova, dell'Italia che lavora, dell'Italia che prova a immaginare un futuro fatto di opportunità e non soltanto di lamentazione, un futuro fatto di idee e non soltanto di critiche. Per questo sarà fondamentale nei prossimi mesi e nelle prossime settimane investire i 2 miliardi e mezzo sul piano nazionale della ricerca, per questo sarà fondamentale investire nei soggetti culturali come attrattori di occasioni di crescita, ma per questo sarà necessario dare il messaggio ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze che è il tempo di tirarsi sulle maniche e di mettersi in gioco e di provare finalmente a riportare il futuro di casa in Italia. Buon lavoro apposta che lo sta facendo, buon lavoro a tutti voi, buon lavoro a tutti noi. Grazie.